Si intitola Alessandra, un grande amore e niente più, il nuovo film di Pasquale Falcone, una commedia romantica, tre storie d'amore, tre generazioni a confronto con alcuni spunti musicali, presentata questa mattina al Gran Caffè Gambrinus, proprio dal regista che precisa. Alessandra sono tre storie d'amore di tre generazioni, raccontiamo un amore di due quindicenni, poi facciamo un salto di 25 anni, li vediamo quarantenni e raccontiamo poi anche l'amore dei loro figli che hanno 25 anni. E poi strizza l'occhio anche un po' al musical, per questo poi abbiamo chiesto al maestro di riarrangiare un grande amore e niente più, che pensavamo che era la canzone ideale per raccontare appunto l'amore. Le riprese si svolgeranno a maggio tra il Cilento, la Costa d'Amalfi e Cava dei Tirreni. Alla conferenza stampa presenti gli attori protagonisti Sergio Muniz, Eleonora Facchini e Rosaria De Cicco. Siamo noi che invecchiamo, l'amore è sempre uguale, l'amore si vede in modi diversi dipendendo dai limiti mentali che ognuno si crea all'inizio, a metà, alla fine diventano diversi, però l'amore è sempre lo stesso. Non so se sono la persona più giusta per rispondere a questa domanda essendo molto giovane, però sicuramente nella mia poca esperienza l'amore cambia quando acquista la consapevolezza dell'età adulta. L'amore rimane amore, è universale in tutti i sensi, anche perché l'amore è non solo verso un partner, ma è verso la mamma, il padre, i fratelli, i figli, i cani. L'amore è amore, però per fortuna si declina in tanti modi. Tra i motivi di interesse della pellicola è il nuovo arrangiamento del brano di Peppino Di Capri, Un grande amore e niente più. Il maestro ai nostri microfoni spiega perché ha deciso di partecipare alle riprese del film. Peppino Di Capri che interviene in questo lavoro in qualità di riarrangiamento della, posso dire famosa, Un grande amore e niente più che era io. C'è il titolo molto lungo e quindi niente, il fatto di rispolverare questa canzone dell'epoca, quindi con delle sonorità attuali, quindi più adatta al genere del film e sono contento che hanno scelto me per questo divertente lavoro.